e si l'amaretto di saronno è diventato il successo internazionale del momento c'era da aspettarselo diciamo la verità per il suo gusto squisito e poi anche per questa splendida bottiglia creata dai maestri vetrai di murano e come regalo eccezionale se poi la comprate per regalarla invece la tenete voi capita attenzione però non è l'originale se non è l'amaretto di saronno della ilva